Amici di Emilia Bordi, salve a tutti e welcome to our friends around the world e soprattutto benvenuti nel Principato di Monaco. Siamo davanti al Palazzo Reale, la sede appunto del Principe che governa il Principato di Monaco. Ovviamente la piazza è piena di turisti e quello che vi stiamo mostrando è un filmato in VR 360, il che vuol dire che potete vedere attraverso uno smartphone, un visore VR o anche attraverso una smart tv tutto quello che succede attorno a noi. Questo filmato andrà a far parte del nostro portfolio dedicato appunto alla realtà virtuale. E continuate quindi a seguirci sul nostro sito internet www.EmiliaBordi.it oppure su tutti i principali social network, come c'è il nostro canale YouTube Emilia Bordi. Ciao a tutti!